... Mercoledì 11 novembre, buongiorno, bentrovati con la nostra rassegna stampa prima dei quotidiani, locali e nazionali, l'ultimo bollettino dell'azienda sanitaria regionale sul coronavirus, un altro decesso e 71 nuovi positivi con diversi recovery nel reparto Covid del Cardarelli, sentite. Ancora una vittima nella casa di riposo di Vinchiaturo, non ce l'ha fatta un 92enne deceduto nelle scorse ore. La conferma arriva dal titolare della struttura Giuseppe Colamaio e dal sindaco Luigi Valente. Si tratta del quarto decesso registrato dalla Samnium, il 57esimo in Molise dall'inizio della pandemia, 5 i ricoverati in malattie infettive mentre un paziente di Coletorto è stato trasferito in rianimazione. Attualmente sono 56 i degenti nel reparto Covid del Cardarelli, 8 in terapia intensiva, 77 i nuovi positivi, 750 i tamponi processati, nelle ultime ore. Campo Basso, Castelpetrosi e Riccia, i centri più colpiti rispettivamente con 21, 12 ed 11 contagiati. 6 a Isernia, 4 a Larino, Cluster, Casa circondariale, 2 a Termoli, San Polo, Matese e Campo di Pietra. Positivi anche a Dagnone, Boiano, Castel, San Vincenzo, Castropignano, Ferrazzano, Miranda, Palata, Pietragatella, Scontrone e Spinete. 1.778 i casi attualmente positivi, 1.697 gli asintomatici a domicilio, 1.487 i soggetti in isolamento. Infine il dato nazionale, il bollettino del Ministero della Salute riporta 35.098 nuovi contagi, 10.000 in più rispetto a ieri, ma 70.000 tamponi in più processati con il rapporto nuovi positivi, tamponi che scende di un punto percentuale. Schizza invece in alto il numero dei morti, 580, record degli ultimi giorni. I quotidiani, i quotidiani locali Primo Piano Molise, vediamo l'apertura, un altro decesso e 71 nuovi positivi. Eccola, la cinquantasettesima vittima del coronavirus è un 92enne, ospite della casa di riposo di Vinchiaturo. Nelle ultime 24 ore processati 750 tamponi, 5 ricoveri, nessun dimesso e 6 guariti. Ora sono 8 i pazienti in terapia intensiva. Il Molise resta zona gialla, Toma in bocca, umiltà e unità, situazione seria, errore a bassare la guardia, ma catastrofismi e strumentalizzazioni politiche non servono. Sistema sanitario a dura prova, Giustini scrive a Speranza, decreto Calabria pure in Molise. Il commissario chiede, poteri reali non sono venuto a sbarcare il lunario, senza struttura e mezzi non ci sono le condizioni per operare. Il punto di Pierluigi Giorgio di spalla, Alfredo Bongusto, torna tra i suoi vicoli e poi in taglio alto Termoli, patrimonio di dubbia provenienza, la finanza confisca beni a un rom per 2 milioni di euro. Nell'area Matesina, droga nel night, il questore adotta il Daspo Willy, stop bar e locali per due rumene. A Palazzo Daimmo fissata la data del giro di Boa il 20 novembre, l'elezione dell'ufficio di presidenza. Poi contro gli assembramenti, il Viminale invita i prefetti a programmare controlli serrati. Nei weekend il vertice test dai medici sì, ma non nei nostri ambulatori. A Venafro il sindaco Ricci tratta ok al reparto Covid, Toma e Laserem però onorino gli impegni assunti. Poi c'è la testimonianza, vivere negli Emirati al tempo del virus. Regole ferree che tutti rispettano e questa la testimonianza appunto. Infine lo sport. Lupi ancora fermi, confronto con un anno fa, 7 punti in più e vetta tra le mani. E poi il Vasto Girardi, oggi i giallo-blu effettueranno i test per poter tornare agli allenamenti. Nel caso in cui ci sarà l'ok da parte dei medici, oggi pomeriggio il Vasto Girardi sarà di nuovo in campo. E ancora Magnolia e Cus, dunque Basket e Futsal, Gorini e De Betio trascinano i team del capoluogo. I quotidiani nazionali. Iniziamo da Il Messaggero di Roma. Dovete chiudere le piazze. Il governo richiama i sindaci. Questa l'apertura. L'Alto Là dopo gli affollamenti nel weekend stretta a Roma e a Palermo. Ieri picco di morti da aprile 580. Le regioni decidono le autolimitazioni. E poi la doppia GAF. Calabria il pasticcio dei commissari. Conte chiama Gino Strada. Può essere una figura valida, ha detto. E poi l'accusa di Damato. Nessun controllo dalla Sardegna. Una scena di contagi. Inchiesta sui permessi ai locali estivi. Ed ancora in taglio centrale due immigrati da immigrati a miliardari. La coppia d'oro del vaccino. Marito e moglie turchi. La svolta in Germania con l'azienda Tech. Il Corriere della Sera. Il governo chiede più chiusure. Eccola l'apertura del Corriere. Spinta sulle regioni, negozi e passeggiate verso nuove regole strette anti-assembramenti. Rischio alto per Emilia Romagna, Veneto, Friuli, Venezia Giulia e Campania. All'Italia 27 milioni di dosi di vaccino. E poi il Corriere mostra questa foto inquietante con il casco o intubati i reparti shock di Milano. Viaggio tra le corsie dei malati di Covid al Niguarda di Milano. 340 ricoverati in un intero reparto. Tutti coi caschi per l'ossigeno all'armi a Varese. 3.000 casi in un giorno. E poi affollamenti, più vigilanza. Ma l'antidoto è l'autocontrollo, scrive Giovanni Bianconi. La Repubblica. Vediamo subito l'apertura influenza rischio ospedali. Mancano 15 milioni di vaccini. Questa dunque l'apertura di Repubblica. Le dosi sono in ritardo. Ricciardi, la febbre stagionale e il virus possono far collassare i pronto soccorso. Domani l'accordo tra l'Unione Europea e l'azienda che produrrà il vaccino. Ma il governo italiano non ha ancora completato il piano di distribuzione. Altri 580 morti peggiorano Campania, Veneto, Emilia e Friuli. E poi il pezzo di Tito Boeri e Roberto Perotti. La classifica delle regioni. Quando i colori impazziscono la divisione del paese in zone rosse, arancioni e gialle, è basata su 21 indicatori decisi in aprile dal Ministero della Salute. Sono troppi, dicono Boeri e Perotti. Poi in taglio centrale c'è questa foto. Casa Bianca usa venti di guerra sulla transizione, cioè sul passaggio da Trump a Biden. La sfida del segretario di Stato Mike Pompeo. Guido il cambio, ma verso altri quattro anni di Trump. Biden non mi fermo e schiera gli avvocati. Dunque una situazione in continua evoluzione. Il fatto quotidiano. Guardiamo l'apertura, un'apertura forte. Ecco le balle degli sgovernatori. Va tutto bene. Dati incredibili per evitare le chiusure. Non solo Campania. De Luca si fa beffe di speranza con cifre da favola, ma chiede a Roma di chiudere le aree più infette. Altri millantano pure tracciamenti al 100%. E tra i governatori nel mirino del fatto quotidiano c'è, oltre a De Luca, c'è Zaia, c'è Fontana, c'è Toti, governatore della Liguria. Di spalla, Conte chiama strada, che però vuole carta bianca, chiama strada come commissario alla sanità della Calabria. Il sole 24 ore, il quotidiano politico, economico e finanziario di Confindustria. Subito l'apertura. La pubblica amministrazione paga in ritardo per le banche. 12 miliardi di credito a rischio sofferenza. Il sole 24 ore lo definisce un cortocircuito. Dal 2021 cambierà la definizione di default con effetti sui bilanci. Pericolo di conseguenze negative per imprese e istituti di credito. Il governo al lavoro per disinnescare la mina entro la fine dell'anno. E poi Covid. Quattro regioni in bilico. La Campania per ora resta gialla. Emergenza sanità sulla chiusura nazionale. Scelta tra sette giorni. Morti in forte aumento. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport e con Paolo Maldini, il direttore tecnico del Milan, che dice, mi lancio la capolista, cerca altri talenti per il piano scudetto. Chi sono questi talenti? Al lavoro per gennaio. Maldini che pensa a Kabak, difensore dello Schalke 04, in cima alla lista rossonera. L'Ovato è l'alternativa. E per l'attacco spunta Turam, Junior, il figlio di Lilian Turam, lo ricorderete, difensore di Parma e Juventus. E ancora Napoli respinto, ma ADL non cede. Ma Aurelio de Laurentiis non cede. Restano 0 a 3 con la Juve e meno un punto di penalizzazione. Il giudice si è creato l'alibi per non giocare. Nuovo ricorso al Coni. E poi la vicenda Lazio, prelievi e tamponi. Laboratorio di Avellino, otto ore sotto esame. In taglio alto c'è Locatelli e la magia di provincia. Locatelli è uno dei pezzi pregiati del Sassuolo. Ex Milan, un giovane su cui De Zerbi ha investito. Ecco perché non ho più limiti visti da Veltroni, intervista al centrocampista dei Nero Verdi. Bene, è davvero tutto. Prima dei saluti diamo uno sguardo al palenzesto. Cosa troverete oggi sulla nostra rete? Lo vediamo insieme. Alle 11 c'è Paese Mio, poi Camminando Molise. Alle 14 l'informazione con la collega Rita Iacobucci. Alle 16 Paese Mio, 17.30 Camminando Molise, 19.30 ancora. La nostra informazione è sempre in diretta, ma questa volta con Valentina Ciarlanti. Alle 21 viva la musica con Gigione. Alle 23 l'ultima edizione del nostro notiziario. Bene, è davvero tutto. Grazie per averci scelto. Buona mattinata. Arrivederci. Grazie.